Forse era meglio farlo senza cuffie, dai va bene così. Senti Paolo, tu questa sera sei fortunato perché oltre a Luca Sepe ci sono la bellissima Maria Grazia ma soprattutto la sua nonna famosissima che è nonna Margherita, che tra le altre cose sono vostri clienti perché loro abitano proprio in zona vostra, lo sai? Sì sì, lo sai, le hai visti quindi. Un grande saluto a tutti quanti. Ci fa piacere, che cosa ci fai vedere di bello questa sera Paolo? Innanzitutto diciamo che siete del punto expert di fuorigrotta di Trilogs per il gruppo di casa Expert Expert Campania che è composto da Mallardo, Somma, Parente ed Expert New Electronics, giusto? Esatto, esatto, hai detto benissimo. Allora, prima di tutto vi presento il punto vendita di fuorigrotta che è 21-23. Sì. Oggi vi presento una cosa molto simpatica, il nostro volantino. Il cliente può vedere il nostro volantino all'interno della pagina nostra di Expert Family Megastore. Ecco qua. Ok, faccelo vedere. Come potete notare. Ah, quindi online. Esatto, online. Il cliente una volta che entra nel nostro sito Expert Family Megastore, ha la possibilità di vedere il volantino e semplicemente cliccando sulla più di uno dei prodotti, automaticamente il sito ti collega direttamente alla pagina ufficiale dove tu puoi vedere caratteristiche tecniche, prodotto e decidere se aggiungerlo al carrello. Fantastico. Molto semplice, intuitivo e per tutto quello che ti può dare il nostro volantino. In più è la possibilità di scegliere tutti i nostri vari servizi, tra cui l'estensione di garanzia. Il nostro finanziamento, tra l'altro abbiamo un finanziamento a tasso zero fino a 20 mesi in questo volantino che è partito oggi con scadenza fino al 25. E ricordiamo che da questo volantino, così come si vince dal titolo, c'è lo sconto che conta questo mese, vero? Esatto, perché abbiamo degli ultimi sconti su tantissimi prodotti selezionati nel volantino e che potete trovare tranquillamente su ogni nostro punto vendita. Paolo, noi ti ringraziamo di vero cuore, ti verremo a trovare da vicino. Grazie a tutti gli amici di Expert e un abbraccio a Fuoligrotta. A prestissimo.